Vi do il mio personale benvenuto, io sono Anzio Arati, Presidente della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio e ho l'onore e il compito, spero non gravoso, di gestire questa serata. Poi vi spiegherò un po' come si svolgerà la serata. Mi preme presentarvi le autorità che sono ospiti. Abbiamo Graziano De Rio, Sindaco del nostro Comune, Massimo Mezzetti, Assessore Cultura e Sport della Regione Emilia-Romagna, Alfredo Gennari, Assessore a Mobilità, Sport, Caccia e Pesca della provincia di Reggio Emilia e William Reverberi, Presidente regionale del CONI, seduti al tavolo della Presidenza. In platea non mancano noti personaggi istituzionali in rappresentanza del nostro movimento sportivo, dal Presidente del CONI provinciale, dal Presidente dell'UISP provinciale, noi lo chiamiamo Presidente, perché rimane sempre lui Presidente del Centro Sportivo, e le rappresentanze anche delle massime associazioni sportive che rappresentano la nostra città a livello professionistico. Do subito la parola, naturalmente, a Graziano De Rio.